13 torte salate chetogeniche, veramente golose, senza glutine e senza latticini Immagina, hai voglia di qualcosa di saporito, sfizioso, ma leggero Una bella fetta di torta salata agli spinaci a zero carbo Academy nei suoi corsi, da anni ti propone piatti invitanti senza glutine e senza latticini In questo videocorso siamo andati oltre, anche per soddisfare le esigenze di tantissime persone Abbiamo messo a punto una carrellata di ricette chetogeniche veramente intriganti e ben bilanciate nei nutrienti Difatti, quasi nessuna contiene mandorle, se non in piccolissima parte E nessuna contiene cocco Ad esempio, guarda le quiche, irresistibili torte salate con la frolla Oppure lo strudel di verdure, leggero come una nuvola O lo squisito erbazzone emiliano O le torte salate liguri, sottili e con tanta verdura cheto E perché no, una bella piada cheto, da farcire come vuoi Ti ha ingolosito, vero? Vai subito a vedere il nostro videocorso torte salate chetogeniche, cliccando qui sotto Grazie a tutti Grazie a tutti